Cambiare l'approccio allo studio delle materie informatiche digitali per sviluppare opportunità di lavoro per i giovani. Nasce Cogita, associazione no profit promossa da Vincenzo Di Nicola, ingegnere terramano con un passato in Silicon Valley, fondatore di Conio, fra le prime startup italiane a occuparsi di blockchain e bitcoin, e oggi a capo della struttura per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale dell'Inps. Cogita formata da ragazzi per ragazzi. Sono professionisti dai 22 ai 26 anni, con grande esperienza, nonostante l'età, che uno può pensare siano junior, invece sono solamente grandi campioni, e vorranno formare i nuovi ragazzi, i nuovi mestri, i nuovi professionisti del futuro. Ma c'è un deficit di competenze oggi tra i giovani nell'informatica, nel digitale, e la scuola non riesce a stare al passo coi tempi? Allora, la scuola, io sappiamo due cose, la scuola di istruzione superiore, che secondo me è ancora molto valida, può essere migliorata, ma ancora molto valida a livello mondiale. L'università in Italia, invece, mi dispiace dirlo, perché ho studiato pure io in Italia, oltre che in America, ha un deficit forte di competenze informatiche, e questo si ripercuota anche nell'economia. L'economia di oggi, il terzo millennio, è l'informatica, l'informatica è il pilastro delle azioni sociali, economiche, industriali, intrattenente, di qualunque cosa. Se noi come Stato, Italia, potenza ancora in teoria del G7, non abbiamo una forte competenza in informatica, siamo destinati a fallire. Quali sono, nel concreto, gli obiettivi di Cogita? Cosa farete? Allora, inizieremo a settembre con dei corsi online e in presenza, perché noi, il nostro audience vuole essere l'Italia, non soltanto Teramo e l'Abruzzo, e adesso l'insegnamento a distanza è diventato una cosa normale, per fortuna. Insegneremo corsi pratici di informatica moderna, poca teoria e molta pratica. Vogliamo che alla fine di questi corsi online, probabilmente la durata dei primi corsi saranno tre mesi, formeremo ragazzi con skill, con capacità utili al mercato di oggi.